direi che possiamo iniziare eh dobbiamo iniziare io vedo già già molto interessante oggi molto interessante allora tanto tanta serietà tanta scienza rigorosa ma a modo nostro grazie a tutti buonasera a tutti e bentornati allo Scienza Show Talk programma di divulgazione scientifica eh sono emozionato ve lo dico sono molto emozionato perché la seconda stagione dello Scienza Show eh pensavo che non non si potesse ripartire invece abbiamo fatto uno sforzo abbastanza importante e ci siamo riusciti allora quella era la sigla che ricordava un po' la storia del primo Scienza Show e come avete visto ci sono stati tanti ospiti importanti e e li saluto tutti in particolare maniera ad Alberto Clivio professore Alberto Clivio ex professore di genetica eh applicata alla statale di Milano che adesso vive in Cile eh ed è stato il mio compagno di viaggio fin dalla la prima puntata dello Scienza Show del ventinove marzo del duemila venti in pieno lockdown allora stasera è emozionatissimo ma eh sono in compagnia di un parterre de roi cioè ci sono degli scienziati di altissimo livello perché come sempre lo Scienza Show eh è uno spettacolo a modo mio a modo nostro ma rigorosamente scientifico e autorevole e stasera parleremo di una questione abbastanza eh seria eh il fatto che eh in Antartide si si è scoperto un cosiddetto tipping point locale che cosa sono? Sono dei luoghi della terra in realtà eh quello è lì ma ce ne sono altri otto in giro per il pianeta e sono dei punti che eh grazie ai quali purtroppo si dimostra che il riscaldamento globale ha i suoi effetti sul nostro pianeta e adesso per quella specifica area della nostra terra ne parleremo insieme a eh dei signoroni che vado a introdurre subito Massimo Frezzotti eh allora Roma tre glaciologo ciao Massimo buonasera a tutti come stai? Tutto bene? Prima puntata con l'ocento talk serale sarà un'avventura abbastanza abbastanza impegnativa io me la sono faticata molto devo dire la verità questa prima puntata allora eh di che parliamo stasera Massimo? Qual è il centro il punto focale diciamo così focale di questa puntata? Il punto focale è che alcuni ghiacciari dell'Antartide stanno cedendo molta più acqua di quanta ne ricevano dalla precipitazione nevosa e stanno contribuendo in maniera significativa all'innalzamento del mare in particolare ce ne sono eh quelli che defluiscono verso la mare di Amunsen che si stanno ritirando e per cui si stanno anche velocizzando e contribuiscono in maniera molto significativa all'innalzamento del mare che attualmente è di circa 3.2 millimetri all'anno e eh ormai i ghiacciai rappresentano il sessanta per cento di questo innalzamento a livello del mare a livello globale e l'Antartide se fondesse completamente per cui diciamo è una cosa di tempi geologici cioè migliaia centinaia migliaia di anni comunque in qualsiasi situazione il livello del mare si alzerebbe di sessanta metri per cui uno sbilanciamento del solo del dieci per cento di questa massa sono sei metri di livello del mare ok quindi solo solo la massa dell'Antartide stiamo parlando solo se fonde l'Antartide sono sessanta metri la Groenlandia sono cinque metri più o meno tutti i ghiacciai il resto di tutti i ghiacciai del mondo è circa un metro di innalzamento del mare il resto è espansione termica delle oceani a causa del fatto che si stanno riscaldando si stanno riscaldando tantissimo e questo a causa del riscaldamento climatico dovuto all'utilizzo dei gas effetto serra. Allora saluti da Arianna Arianna Scienza mia figlia che sta preparando lo scienza show per i bambini ci stiamo lavorando junior lo junior un salutino veloce veloce a Nina. Ciao. Allora Arianna sta partendo. Allora qui perché mi ha chiamato la casalinga di Voghera perché stasera non ce l'ha fatta venire e mi ha detto senti io volevo chiedere una cosa per favore ma davvero nel giro di tre quattro cinque anni ce ne andiamo sotto l'acqua e no ce l'hai spiegato tu assolutamente no cioè non se ne parla assolutamente di dobbiamo tenere presente che durante il periodo della glaciazione cioè intorno tra dieci quindici mila anni fa quando diciamo il mondo il nostro mondo a causa della cicli astronomici fra la terra e il sole era in uno stato di glaciazione i livelli del mare erano più bassi di 120 metri e sopra il l'America e la Scandinavia c'erano delle grandi calotte di ghiaccio che ricoprivano tutto questo continente con una quantità di ghiaccio che era più del doppio dell'attuale il livello del mare si era abbassato 120 metri poi sono cambiate le condizioni astronomiche il l'emisfero settentrionale è stato riscaldato molto di più il livello del mare ha incominciato a risalire e abbiamo visto delle velocità al massimo di 4 centimetri all'anno come media per cui stiamo parlando comunque che non possiamo aspettarci delle inondazioni domani mattina è chiaro che però quello che noi abbiamo innescato aumentando la temperatura del nostra atmosfera ma del nostro pianeta perché la maggior parte del riscaldamento cioè il 93 per cento del riscaldamento dovuto ai gas effetto serra è negli oceani soltanto una piccolissima parte ha riscaldato l'atmosfera la maggior parte è negli oceani andiamo a andiamo a far capire di cosa stiamo parlando dove ci troviamo questa è l'antartide intanto chiariamo subito che l'antartide è il continente che si trova al polo sud qui ci sono i pinguini non ci sono gli orsi e l'area che andiamo diciamo oggetto da puntata di oggi è questo pine island glacier che è quel puntino lì che in realtà quel puntino lì drena un'area che è pari al 60 per cento 181 mila chilometri quadrati che circa il 60 per cento dell'inter Italia tanto per capirci insomma ho capito e questo piccolo ghiacciaio diciamo al punto in cui arriva al mare è largo circa 20 chilometri e per cui capite bene qual è il scusate è largo circa 50 chilometri per cui capite bene che stiamo parlando di grandi masse di ghiaccio e grande importanza allora facciamo vedere anche questa questa immagine al satellite facciamo uno zoom sul punto specifico ce lo spieghi tanto per capirci ecco quello quello che si vede il ghiacciaio che è largo 50 chilometri da dove si vede diciamo le due bande che si vedono e che arrivano a mare quella a sinistra è l'oceano quegli iceberg tanto per capirci nel febbraio 2020 si è staccato un iceberg che aveva una superficie di 300 chilometri quadrati che pari alla superficie dell'isola di malta tanto per darci un'idea per capirci per capirci che stiamo parlando senti facciamo vedere anche questa bellissima frattura ce la spieghi questa frattura è quella che vedete diciamo la parte centrale è l'acqua congelata del mare e questo è un crepaccio che si è formato sulla piattaforma di ghiaccio galleggiante da cui la parte probabilmente a sinistra è quella dell'iceberg e quella a destra è ancora attaccata al continente allora facciamo vedere anche questa cosa se chiama parli a qualcuno qualche giornale perché purtroppo qualche giornale scrive anche sciocchezze ha parlato del primo punto senza ritorno che si vede sul pianeta in realtà ce ne sono ce ne sono otto diciamo i punti di non ritorno c'è nel senso che significa che a un certo punto si arriva a una situazione di instabilità e per cui da una fase si passa a un'altra e questi punti di non ritorno sono per esempio la corrente del golfo che porta il calore dall'oceano dal dal golfo del messico verso il nord dell'europa e per cui il nord europa è molto riscaldato da questa corrente del golfo e se sfondono i ghiacci per cui l'acqua diventa meno densa il questa corrente del golfo potrebbe bloccarsi all'altezza della spagna questo significa che ovviamente l'inghilterra scandinavia si raffreddano ovviamente si riscalda molto di più il golfo del messico e tutta la parte meridionale del nostro pianeta oppure la riduzione del ghiaccio marino in in artide che se ne parla sempre molto spesso la banchisa dell'artide uno non ci pensa ma la riduzione del ghiaccio marino è una cosa fondamentale la neve e il ghiaccio marino ovviamente riflettono il 90 per cento della radiazione solare per cui rispediscono nello spazio la radiazione solare se questo albedo l'effetto albedo esatto esattamente l'albedo però se questo diciamo specchio che riflette la luce solare diventa fonde e per cui diventa acqua marina l'acqua marina ne riflette soltanto il 20 per cento per cui noi abbiamo una riduzione del ghiaccio marino che ovviamente comporta una maggiore estensione di acqua che riflette molto di meno si riscalda molto di più fonde più ghiaccio marino e per cui in un processo di feedback siamo passati che dagli anni 80 ad oggi il ghiaccio marino siamo passati un'estensione minima durante l'estate di 10 milioni di chilometri quadrati a circa 4 milioni di chilometri quadrati cioè è stato chiarissimo allora noi abbiamo questa sera tre personaggi un glaciologo un geologo e un vulcanologo perché scienza show è fatto così ok si scherza ma molto seriamente buonasera a fabio florindo istituto nazionale geofisica e vulcanologia geologo ciao fabio assolutamente ciao ciao a tutti senti che ci fai qui a che servi tu qua stasera è interessante la domanda ma sarà interessante anche la risposta se noi se noi vogliamo conoscere il clima del passato abbiamo diversi archivi che possiamo utilizzare possiamo andare dai coralli per studiare qualche centinaio di anni nel passato gli annelli e gli alberi gli speleotepi le carote di ghiaccio arriviamo un milione e mezzo di anni ma se vogliamo andare molto indietro del tempo dobbiamo studiare i sedimenti ed ecco che arriva il geologo noi se vogliamo capire cosa succederà da qui si parla spesso del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici la ipc spieghiamo cos'è spieghiamo cos'è se no arriva l'onna di albert einstein a urlarmi nell'orecchio vai spieghi panel con rappresentanti scientifici di varie nazioni che studiano gli articoli pubblicati dalla comunità scientifica i modelli pubblicati sul tema cambiamento climatico assolutamente fanno delle proiezioni la più vicina da qui al 2100 che cosa accadrà al pianeta ad esempio dicono nelle condizioni peggiori che gli oceani si alzeranno di circa un metro che la temperatura media globale sarà di circa 3 gradi centigradi più alta dell'attuale e così via ma se noi vogliamo capire bene queste proiezioni dobbiamo cercare nel lontano passato della storia geologica del pianeta un momento in cui il pianeta aveva condizioni simili all'attuale cioè a quelle non all'attuale a quelle previste dalla ipcc quindi una temperatura media globale di circa 3 gradi centigradi più alta di quella che abbiamo oggi è un contenuto di co2 in atmosfera di almeno 400 parti per milioni quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo cercato nell'archivio geologico e siamo andati a scovare un intervallo che si chiama pliocene inferiore medio ecco quello è stato un intervallo che aveva queste caratteristiche ok possiamo dire che possiamo dire che sottoterra diciamo così diciamo che i vari strati della terra sono un po come le pagine un libro della storia della nostra terra assolutamente andando sempre più a fondo vedendo tutti gli strati è come se girassimo le pagine sì in maniera semplicistica assolutamente più si va in profondità più diciamo gli strati sedimentari sono più antichi chiaramente in antartide sappiamo che la quasi totalità è coperta da ghiaccio quindi se noi volevamo studiare questi strati sedimentari in antartide dovevamo mandare una trivella che bucava il ghiaccio scendeva nell'oceano e cominciava a prelevare le rocce nel fondale e questo è quello che ha con diverse situazioni coinvolte leadership italiana un progetto che si chiamava Andril credo che abbiamo qualche immagine che illustra noi solo la mandiamo la facciamo vedere allora facciamo vedere dove siamo ecco questa è questa zona con il quadratino giallo è un settore della catena transantartica nel mare di rosse dove c'è questa piattaforma di ghiaccio calleggiante sotto si vede la parte terminale verso l'oceano di questa piattaforma di ghiaccio e di uno spessore di mare di rosco lo facciamo vedere rispetto si rossa e shelf e in basso e che grande è molto grande grande quando diciamo circa come la francia quindi sono insomma strutture immense quindi attraverso delle tecniche particolari di linee sismiche eccetera eccetera abbiamo identificato un sito ideale di perforazione questo questo schema mostra quello che abbiamo fatto vedete la trivella su in alto che abbiamo sviluppato per il progetto poi c'è la shelf che nella parte terminale quindi non è molto spesso comunque raggiunge circa 85 metri in quello spessore in quella zona poi abbiamo mandato le trivelle giù in mare per circa 900 metri quello è l'oceano vedete e da quel momento in poi abbiamo iniziato a perforare il fondale e abbiamo recuperato quella che si chiama carota quindi un cilindro di sedimenti di quasi 1300 metri in continuo e la cosa bella è in questo schema si vede è che abbiamo trovato dei sedimenti un'alternanza di sedimenti che indica situazioni glaciali interglaciali quindi quando quella zona era coperta di ghiaccio e quando il ghiaccio non c'era assolutamente più con un'alternanza ciclica questo è stato molto bello un'alternanza che segue dei cicli astronomici adesso vediamo anche un'altra immagine io vi ricordo a tutti che prossima settimana a proposito di queste cose scienza show entrerà alle 14 e 30 nella nave oceanografica della della OGS di Trieste oggi abbiamo fatto le prove entreremo con le telecamere a distanza per vedere come funziona questa nave che adesso è ormeggiata a Trieste sarebbe la nave bassi no che fa sì che fa da Spoletta verso il mare di Ross per la base Mario Zucchelli ok quindi scienza show entra dovunque detto questo facciamo vedere subito un altro ci spieghi anche questo questi sono tre disegnini che mostrano quello che abbiamo trovato cioè la parte alta abbiamo dei sedimenti che sono semplicemente composti da delle alghe silice quando non c'è assolutamente ghiaccio in superficie è un momento in cui il clima non era freddo in quella zona non c'era non c'era la calotta west antartica e si vede dal modellino sulla sinistra tutto colorato vedete si vede la parte est dell'antartite mentre a sinistra si vede un arcipelago di isole ci spieghi quei colori spiegaci i colori quello è le sono le diverse altezze della della calotta la parte verde è più alto è la parte più spessa la parte più spessa poi c'è il pallino rosso che indica dove abbiamo perforato diciamo nella parte alta idealmente stiamo in mare perché in quel momento non c'è più il ghiaccio dove poggiava la trivella invece nella parte sotto era la situazione quando abbiamo perforato c'è questa piattaforma di ghiaccio calleggiante spessa circa 80 metri e diciamo una condizione diciamo attuale quello sotto invece una condizione prettamente glaciale avanzata dove si vede che la calotta è avanzata sopra il sito di perforazione si vedeva quello spessore che arrivava ben oltre il sito di perforazione la cosa interessante è che quello che conoscevamo da altri studi nel plioscene medio a circa 3,5 milioni di anni fa che era un clima particolarmente caldo tipo quello proiettato da qui al 2100 quindi è una cosa simile una sì noi in quell'intervallo di tempo abbiamo evidenza che il west antartica era completamente andato non c'era evidenza di ghiaccio per un lungo intervallo di tempo quindi era il west andato quindi è proprio west andato e questa è proprio una prova concreta non è solo una parte di modellistica noi abbiamo evidenza da dallo studio che in quel momento non c'era più ghiaccio lì perché tanta gente chiede Renato 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 ma questi che vanno a fare lì ma che ce ne frega delle carote per Bugs Bunny ma come che ce ne frega ma non scartiamo il passato ci serve per capire il futuro assolutamente in ricerca servono a questo in questo in questo è proprio il caso di dire che per forza conoscere il futuro allora questo per chiudere la parte geologica e questo è questo è diciamo il discorso a monte noi sapevamo dal studiando senza entrare nel dettaglio e gli isotopi stabili dell'ossigeno sapevamo che il pliocene era momento caldo del pianeta quindi tra 3 e 5 milioni la nonna la nonna come gli isotopi stabili dell'ossigeno ma che stai dicendo le parolacce senza show negli oceani ci sono organismi di varia natura ci sono organismi piccolissimi che si chiamano foraminiferi le dimensioni dei micron ecco loro nel loro guscio fissano l'ossigeno che si trova negli oceani e loro praticamente facendo questo in qualche modo registrano il loro guscio la situazione dell'oceano nel momento in cui loro vivono poi quindi sono delle memorie quindi si si va a trovare conservano quello che loro muoiono scendono nel fondale e poi si accumulano nel tempo poi ristudiando quel contenuto degli isotopi è possibile ricostruire il clima di quel momento questo lo troviamo nelle carotine lo troviamo nelle carotine ci spieghi la figura e quindi questa essenzialmente questa figura va allora in basso vedete da 0 a 5 questi sono milioni di anni rispetto il presente perfetto questi sono a sinistra sono proprio questo delta 18 per mille proprio la variazione di questo rapporto isotopico dell'ossigeno essenzialmente quello che ci dice questo grafico a parte la ciclicità che cambia da 3 milioni di anni fino ad oggi ma la cosa interessante vedete le piccole oscillazioni da 3 a 5 milioni di anni ecco noi sappiamo da questi isotopi che in quel momento il clima aveva una temperatura di circa 3 gradi centigradi superiore a quella attuale quindi lo sapevamo da una fonte indipendente da noi noi siamo partiti che sapevamo che c'era quello allora siamo andati a perforare dicendo vediamo effettivamente come ha risposto l'antartide occidentale a questo momento di riscaldamento e quindi con i 2 3 gradi in più che aveva era tutto sciolto e 400 parti per milioni almeno in atmosfera quindi capiamo che questi signori che studiano adesso vedo frezzotti che ci sottolinea questa cosa 2 gradi sono guai eh sono guai eh siamo quasi fregati allora prego frezzotti vai sì volevo dire soltanto raggiungi una cosa eh che è uscita oggi su Washington Times che è una notizia che viene dal dal sito di Manoloa in cui abbiamo raggiunto 421 parti per milioni di CO2 in atmosfera eh Florinda adesso stava parlando di circa 400 410 parti per milioni noi noi siamo attualmente a 421 in epoca pre industriale stavamo cioè prima che iniziassimo a utilizzare i combustibili fossili stavamo a 270 parti per milioni questo significa che siamo abbiamo oltrepassato la soglia del 50 per cento del raddoppio della CO2 in atmosfera questo in base alle carote di ghiaccio abbiamo visto che non è mai accaduto negli ultimi ottocento mila anni negli ultimi ottocento mila anni al massimo anche siamo arrivati a 300 parti per milione adesso siamo a 420 parti per milione ok quindi questo è chiaramente un'impronta dell'uomo cioè è legato a quella che è la parte antropogenica antropogenica è l'utilizzo dei combustibili fossili cioè noi a partire dall'epoca dell'imperio industriale per cui diciamo a metà del diciannovesimo secolo abbiamo cominciato a immettere una quantità di CO2 in atmosfera enorme e ha fatto aumentare a livello di 2 per mille la quantità di CO2 in atmosfera quando quando ci sono state delle variazioni naturali al massimo il l'aumento di 2 per mille eh di CO2 in atmosfera veniva in 100 o 2 o mille anni per cui vuol dire che noi abbiamo non solo immesso una grossa quantità di CO2 in atmosfera ma con una velocità che non si vede non si è mai vista almeno nei record geologici e climatici che noi conosciamo ok che sono arrivano fino a 800 mila attualmente arrivano 800 mila anni cioè le carote di ghiaccio permettono hanno il ghiaccio ha una peculiarità particolare quello che trasformandosi da neve in ghiaccio intrappola l'aria del passato per cui noi facendo una carota di ghiaccio una perforazione andiamo a analizzare le bolle del ghiaccio dell'aria del passato sono delle capsule temporali del passato e noi possiamo analizzare la composizione chimica dell'atmosfera del passato per cui non solo la composizione chimica ma anche quella isotopica e tutto quanto di tutti i gas per cui sia l'anidride carbonica il metano l'ossio di azoto tutti quanti i gas che compongono l'atmosfera noi possiamo andargli a studiare e noi abbiamo visto grazie alle carote di ghiaccio che negli ultimi 800 mila anni la quantità di CO2 in atmosfera non è mai superato la 300 parti per milione adesso siamo a 420 quindi fra 800 mila anni quando qualcuno se ci sarà andrà a fare le carotine troverà le nostre bollicine d'ossigeno come no allora diciamo ci sono due cose vorrei stressare noi adesso stiamo facendo una perforazione che dovrebbe andare indietro un milione e mezzo di anni quello che ritengo fondamentale mette in evidenza è che non è che aumentando la CO2 in atmosfera e aumentando quello che è il naturale effetto serra perché noi campiamo su questa terra grassa l'effetto serra cioè questo è un processo naturale e senza questo processo la nostra terra sarebbe avrebbe una temperatura analoga a quella di Marte meno 18 gradi invece grazie all'effetto serra cioè la CO2 il vapore acqua al metano che sta in atmosfera in condizioni normali la temperatura del nostro pianeta è intorno ai 14 gradi durante l'epoca dei dinosauri la quantità di CO2 in atmosfera era di circa 1200 scusate la quantità di CO2 in atmosfera di circa 1250 parti per milione per cui 4 volte di più di quanto stiamo parlando adesso ovviamente c'erano i dinosauri non c'era l'uomo ovviamente il pianeta era differente da questa attuale era una grande serra non esisteva il ghiaccio sul nostro pianeta tutte le carote tutte le calotte erano fuse e per cui il livello del mare era più alto di 70 metri era un altro mondo era un mondo in cui venivano i dinosauri era un mondo dove non esisteva l'homo sapiens diciamo da quando esiste l'homo sapiens però noi diciamo non abbiamo mai visto quantità di CO2 in atmosfera più alte di 300 parti per milione va bene siamo siamo contenti grazie di essere venuti qui ce ne possiamo andare siamo fregati no 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 questa è la cosa importante cioè non è che siamo fregati è che il pianeta cambia e cambia in maniera significativa e le popolazioni che sono economicamente più deboli sono quelle che soffriranno di più dei cambiamenti climatici per cui come innalzamento a livello del mare per cui noi facciamo il mose per salvaguardare venezia ovviamente però dobbiamo tenere presente per esempio che in bangladesh in un metro innalzamento a livello del mare vivono 15 milioni di persone queste 15 milioni di persone dovranno andare da qualche altra parte perché non avranno più un posto non dove vivere proprio e quindi meditiamo meditiamo perché da qualche parte devono andare verranno anche da noi perché è naturale che sia così è naturale la situazione della migrazione anche che avviene in Africa e attualmente perché le condizioni ambientali ovviamente i paesi più poveri non hanno la capacità di adattamento non sono economicamente possibili non possono costruire un mose in bangladesh o nelle isole del pacifico allora allora in questa narrazione simpatica c'è anche un figuro che sta lì sotto che mi guarda da un po' perché noi abbiamo il glaciologo il geologo e signori e la scienza soci sta anche il vulcanologo benvenuto a massimo compilio INGV allora buonasera a tutti sì io sono un vulcanologo e perché ci sto ci sto perché perché spessissimo diciamo in queste dinamiche dei ghiacci veloci viene chiamato in causa un calore che viene dalla terra dalla base che ovviamente è dato dai vulcani o dalla presenza di insomma di anomalie termiche legate ai vulcani sì allora l'antastide come come tutti i continenti c'ha tanti vulcani aspetta aspetta che c'è qualcosa di strano eh quando hai nominato i vulcani io comincio a vedere una cosa un po' stranina che si muove in questo studio aspetta un attimo perché ho capito chi è un momento un momento perché sta per arrivare è l'amico il nemico pubblico numero uno eccolo qua che vuoi che che non ho a vabbè allora siccome quello è troppo piccolo no non si sente la vocina ma voi dovete sapere che virus corona si presenta ogni tanto qui ed è il nemico pubblico vi consiglio le mascherine perché se non vi ho pigliato virus e vi dicevo è venuto qua a dirci una cosina ovvero sì ma che sta storia del global warming è una fesseria dice lui però eh perché è un figlio di indrocchia attenzione è una fesseria perché in realtà in quella zona è pieno di vulcani e in realtà si scioglie si sposta questo questa massa di ghiaccio grazie si scioglie si fonde grazie ai vulcani e per questo abbiamo pompilio qui che insieme a frezzotti a florindo ci fanno capire questa storia ma è vero non è vero allora se posso rispondere senza fare qualche malattia devi devi i vulcani ci sono in antarcte ci sono in quella zona sono una zona molto ampia che va dalla che va dal mare di Ross dove ha fatto vedere la piattaforma dove ha fatto vedere la sua perforazione Fabio e fino alla zona di Pine Island te li facci vedere un attimo te li passi sì forse la cosa migliore è farli vedere il tempo di arrivare in regia perché eccoci qua numero uno per pompilio vai allora vedete questa è una parte dell'antarctide la parte occidentale principalmente vedete rossa e shelf nella parte centrale e la zona dove c'è il Pine Island è una zona in alto a destra ognuno di quei pallini colorati è un vulcano ci sono vulcani ovviamente che emergono quindi degli edifici come potete immaginare tipo l'Etna tipo stromboli tipo il Vesuvio ma dei vulcani che sono totalmente ricoperti dal ghiaccio quelli che emergono a volte sono altissimi possono essere anche 3.000 metri l'Airbus che è vicino alla base a 3.700 metri sono vulcani enormi e in realtà questi vulcani ci sono sempre ci sono sempre stati quindi sono lì il più vecchio a 36 36 praticamente 37 milioni di anni ed è ancora attivo il che vuol dire che comunque questi vulcani ci sono sempre stati quindi non possono essere chiamati in causa per una dinamica del ghiaccio che magari è momentanea e anche nella zona non so se farai vedere nella zona dove siamo te lo faccio rivedere c'è un altro sì no c'è un altro ah volevi quella quell'altra aspetta aspetta te la porto subito questa slide qua vedete il Pine Island si vede benissimo cioè la zona che è soggetta vedete ci sono un sacco di vulcani il più vecchio c'ha 5 milioni di anni alcuni c'ha 3 7 milioni sono tantissimi vulcani però anche lì diciamo chiaramente il flusso di calore in quella zona è 10 volte più alta rispetto a altre aree ma c'è sempre stato qui non è che lo possiamo chiamare in causa qual è l'effetto dei vulcani io a volte faccio un paragone un po diciamo fuori fuori regola cioè come gioca la bigliardo e le biglie se uno scalda il bigliardo le biglie scolano meglio giustamente perché si toglie l'attrito il vulcano è uguale cioè riscalda il ghiaccio nella parte bassa e che potrà fluirsi meglio in alcuni casi ma se c'è sempre le condizioni sono sempre quelle quindi chiaramente non può essere chiamata in causa e soprattutto agisce il vulcano nella parte diciamo sul continente non a mare ok spieghiamola bene questa parte critica è chiaramente agisce sul continente ma a mare il mare non viene scaldato dal vulcano viene scaldato da altre dalle ok questa cosa ci entreremo a piedi uniti fra qualche minuto tu finisci il discorso ed è la seconda parte e questo è il problema cioè che la questa dinamica di una maggiore mobilità è sostanzialmente controllata da quello che succede a mare non tanto da quello che succede a terra ok mi fa impazzire questa volta il vulcano è totalmente è totalmente innocente va bene spiegheremo quest'innocenza dei vulcani perché cioè il vulcano fa il suo dovere fa il suo dovere scalda comunque però insomma però entreremo con dei video non accelera entreremo con dei video fra qualche minuto e faremo capire bene questa cosa però nel frattempo c'è un amico che ci aspetta in regia lo vedo quindi mi prendo qualche minuto per presentare un libro fantastico insieme a un divulgatore che è diventato anche un dottore di ricerca dovete sapere ha discusso la la tesi si chiama sì anche tesi in quel caso proprio ieri ed è Stefano Bertocchio adesso lo 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 faccio venire vi mando in panchina un attimino e ci vediamo fra qualche minuto grazie allora Stefano stai per arrivare tu allora faccio andare in panchina tutti gli amici e allora un libro un libro si chiama piccoli geni io ce l'ho devo dire la verità io ce l'ho e adesso ve lo faccio vedere anche qui così allora piccoli geni l'editrice o epli di Stefano Bertacchi l'ho chiamato Bertocchi ma è Bertacchi ma a scienza su a scienza su ci sta caro Stefano e e quindi benvenuto a Stefano allora il tuo volume non lo sento ok dovresti adesso c'è però non ti sento uguale perché non ti sento questa opzione adesso ti sento è lui non è sbagliata non ti preoccupare è scienza show io ce l'ho me lo hai mandato è fantastico io ce l'ho anche io che fortuna te l'ho mandato io a te quello allora ti sei dottore di ricerca allora auguri dottore perché grazie perché è di ero discusso il mio dottorato in tecnologie convergenti per sistemi biomolecolari che appunto io basta basta non lo puoi dire più allora allora per chi è un germofobico ok questo non è un pianeta per persone che hanno paura dei microbi e quindi in questo libro se avete paura andatevene ma no no l'ipo che fa per voi no andatevene nel senso che scoprirete tutto quello che c'è intorno a voi e per quelli che si mettono mascherine so spruzzano e puliscono in continuazione magari vanno anche da uno psicologo perché è arrivato a un certo livello e la devi affrontare questa questione perché o la affronti o devi cambiare pianeta ok anche se cambiando pianeta probabilmente magari anche su marte troveremo qualcosa perché qualcuno è andato a fare questo allora caro stefano il libro io l'ho letto a metà non tutto perché non ho avuto tempo però non vedo l'ora di leggere l'altra metà questo weekend perché l'ho trovato molto a parte discorsivo poi ci sono delle sfumature di chi sa scrivere ecco quindi questo è il primo complimento che ti faccio senti tema antartide microbi batteri che succede in antartide facci sentire ma in realtà potremmo pensare che le uniche attività in antartide siano quelle descritte dai colleghi di questa sera che mi è dispiaciuto averli messi in panchina ma rientreranno tra poco sicuramente in realtà potremmo pensare all'antartide come un posto dove la vita giustamente lo potremmo pensare difficile e se pensiamo anche gli animali che sono lì presenti sono relativamente pochi rispetto a quelli che potremmo trovare su altre terre emerse e per quanto riguarda i microrganismi potremmo altrettanto pensare che lì ce ne siano pochi in realtà sicuramente ce ne sono meno che non in un cucchiaino di suolo normale ma essi possono sopravvivere anche in quelle condizioni il che non è ovvio perché se pensiamo al fatto che le cellule tutte le cellule sono fatte d'acqua in antartide fa molto freddo e si rischia che quest'acqua si ghiacci e chiaramente il ghiaccio all'interno delle cellule non è compatibile con la vita perché se noi sappiamo bene se congeliamo le cellule quindi per esempio i nostri alimenti le possiamo proteggere ma qual è il problema per esempio congelare il lievito non so potrebbe diventare un problema alla lunga perché all'interno si formano dei cristalli di ghiaccio che letteralmente tagliano le membrane delle cellule quindi la protezione il guscio esterno di una cellula e quindi le uccidono che finché sono degli alimenti che sono già morti mettiamola così come la carne o le verdure non ci importa ma il lievito deve funzionare per funzionare deve essere vivo e quindi per esempio lieviti come saccharomyces cerevisie che anche sono non è complicato stai attento che arriva vai che il comune lievito del pane della birra non ci sta in antartide ma ce ne possono stare altri tipo candida antartica vedi c'è l'antartide dentro bravo 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 quindi per esempio questo lievito insieme ad altri microrganismi anche batteri o archibatteri sono in grado di vivere in queste condizioni e non li chiamiamo organismi psicofili cioè in grado di sopravvivere al freddo a bassissime temperature vicinissime allo zero tanto che io nel libro qui non ti faccio spoiler perché immagino che tu ci sia già arrivato li metto nel fondo dell'inferno dantesco dove è la dove si batte i denti di sua bicicogna ti sei giocato i 700 anni di dante bravo complimenti bravo grande cultura e fatto dei post su instagram apposta bravissimo bravissimo ci piace no comunque anche l'antartide è un posto per esempio lì prima si parlava della baia di ross e lì sono stati isolati per esempio candida antartica nella govenda che si trova proprio in quella zona in antartide perché sono interessanti questi microorganismi perché hanno delle proteine anticongelamento che ritardano la formazione di cristalli di ghiaccio quindi questo è interessante potremmo usarlo proprio dal punto di vista industriale assolutamente sì ci sono applicazioni per il settore che ha a che fare con la catena del freddo soprattutto quello dei surgelati per esempio quindi ci possono essere molto utili in condizioni appunto industriali in cui si lavora proprio a bassissime temperature quindi a una certa età potremmo congelarci per poi rivedere se possiamo risuscitare quello quello è il tema della chirogenazione ti posso consigliare chi invitare a parlarne va bene magari facciamo una puntata su questo senti una domanda ai nostri ospite ci salutiamo e riprendo la seconda parte che domanda hai una domanda dopo aver ascolto il penso di sì ma sì sicuramente è una domanda che riguarda me in realtà faccio un anticipo il mondo della microbiologia ha molto a che fare con quello che si diceva cambiamenti climatici emergenza climatica scioglimento dei ghiacci perché è un problema dall'altra parte del globo rispetto all'antartide è legato allo scioglimento del permafrost attendo quando parli di scioglimento dei ghiacciai perché ti picchiano fusione una fusione attendo eh fusione scusa non sono a me a loro a loro allora la fusione dei ghiacciai nella parte appunto in Canada e Russia eccetera eccetera perché possono liberare quello che normalmente sarebbe congelato sotto e cosa ci potrebbe essere sotto per esempio carcasse di animali morti che all'interno possono contenere dei microrganismi per noi letali come per esempio bacillus antracis che nel 2016 sembra essere cicciato di nuovo fuori da una carcassa di una renna e quindi lì all'interno della carne si possono conservare più facilmente i microrganismi per questo è importante l'alimentare fare l'abbattimento ma oltre a questo un altro problema è che al di sotto di questi strati ci sono diversi microrganismi come dei chiamati archaea che sono dei metanogeni ovvero dei produttori di metano questo metano normalmente starebbe sotto questo lenzuolo ghiacciato ma quando si scioglie li libera questo grosso problema perché il metano sappiamo avere un potere di effetto serra non mi ricordo quante volte molte volte superiore rispetto all'idrocarbonica ce lo diranno dopo esatto quindi quindi se non riusciamo ad utilizzare quel metano per i nostri scopi energetici quindi bruciarla a co2 questa va direttamente in atmosfera e può causare dei danni quindi la mia domanda per per gli ospiti è in realtà un ponte con il mondo della microbiologia secondo voi quali potrebbe essere il modo per riuscire a coinvolgere sempre di più anche il tema della microbiologia quando si parla di emergenza climatica mi piace allora grazie stefano complimenti per il libro grazie a te un abbraccio ci vediamo la prossima volta perché penso che vorrei spesso a scienza show perfetto ciao stefano bertacchi comprate il libro di bertacchi ragazzi allora seconda parte di scienza show bertacchi ha lanciato una domanda ai nostri scienziati che già sono lì lo so che vogliono rispondere allora prima parte abbiamo parlato di dove dove è il luogo di questo problema vedremo nella seconda parte tecnicamente in maniera divulgativa cos'è che avviene e cosa ha fatto sì che in questo luogo della terra il nono sul nostro pianeta si innescasse un meccanismo dal quale non si può tornare più indietro cioè questo scioglimento questo scusate questa fusione del ghiacciaio è un processo irreversibile in quel punto della terra in quel punto della terra e lo sottolineo questa cosa qui perché se no diciamo sciocchezze allora vado a introdurre subito a frezzotti che risponda a bertacchi e poi entreremo nel merito tecnico divulgativo su cosa sta succedendo e perché c'è questo tipping point proprio lì in antartide allora frezzotti rispondiamo a bertacchi non ti sento il volume bertocchi volume ha messo in evidenza un altro dei tipping point che il permafrost cioè la fusione del permafrost sta eh è molto importante in tutta la zona siberia tant'è vero frequentemente come ho messo in evidenza stanno sempre uscendo di più dei mammut delle renne degli degli esseri diciamo che erano stati congelati alla fine dell'ultima glaciazione e ovviamente questo diciamo mette in evidenza la situazione di cambiamento ambientale che sta succedendo il problema grosso che nel permafrost sono intrappolate una grande quantità di CO2 di antide carbonica e di metano che per cui hanno dei processi per cui riscaldamento aumenta l'emissione l'emissione aumenta il riscaldamento in questi processi di feedback che stanno amplificando per cui diciamo è un altro dei punti caldi del nostro pianeta che viene tenuto in osservazione quello che è importante mettere in evidenza è che la Siberia l'antartide l'artide sono punti molto lontani da noi ma che influenzano il nostro sistema climatico cioè la i due poli sono il sistema di raffreddamento del nostro pianeta se questi due poli si riscaldano ovviamente significa che si stanno riscaldando molto di più del nostro pianeta sia in artide che in antartide l'aumento della temperatura non è di un grado a livello come a livello globale ma si parla di due tre quattro gradi al secolo cioè molto di più cioè il riscaldamento è molto più alto quest'anno in Siberia abbiamo avuto delle temperature che sono arrivate a 40 gradi in posti in cui normalmente al massimo precedentemente si era arrivati a 20 in antartide la scorsa estate si è arrivati a 20 gradi in posti in cui non si era mai visto temperature così allora il mondo cambia purtroppo non possiamo dire nemmeno anzi meno male che in unione in che Putin non può mandare più nessuno in Siberia perché fa caldo Putin è molto contento negli anni 90 uscì fuori un rapporto della CIA che diceva i cambiamenti climatici non sono un problema di scienziati è un problema di militari perché se ci saranno i cambiamenti climatici le pianure del west che sono il granaglio degli Stati Uniti diventeranno deserto e la Siberia diventerà il granaglio del mondo e per cui ovviamente avranno accesso a grandi risorse ovviamente minerarie anche di gas e petrolio ma anche potranno coltivare delle estensioni molto più ampie di quelle che sono attualmente allora quindi c'è Putin che sta sparando a pompa diciamo che hanno attenzione anche loro diciamo tutti quanti stanno rendendo conto che i cambiamenti climatici il problema grosso è che ovviamente è necessaria una visione politica che vada a 10 20 anni no per cui è come il next generation found cioè questi sono debiti ambientali che stiamo dando ai nostri nipoti per cui purtroppo i nostri politici guardano al massimo alle prossime elezioni quando sono molto distanti se non alle elezioni regionali. Allora un'osservazione un'osservazione tu hai fatto notare una cosa ecco una sottigliezza che magari può far vedere scenari futuri incredibili cioè pensate che ci sono paesi in cui potrebbe convenire questo cambiamento climatico e paesi a cui non potrebbe convenire pensate che scenari ci possono essere allora intanto devo dare una risposta a Matteo Cattadori sorge spontanea una domanda perché queste trasmissioni non le fa la RAI e che ti devo dire Matteo le fa Sartini sui social perché mi piace perché sono pazzo che ti devo dire per fare una trasmissione così alla RAI ci vorranno qualche milione di euro io lo faccio con venticinque euro di abbonamento al mese pensate un po' questo è il mondo che abbiamo adesso davanti ci consente cose incredibili allora entriamo nel merito nel merito significa c'è il vulcanologo c'è qualcuno che sostiene vabbè ma c'entrano i vulcani spieghiamo bene perché non c'entrano i vulcani Pompiglio l'ha già accennato adesso con Frezzotti facciamo vedere il meccanismo che è alla base di questa fusione ed è un video dell'ESA davvero spettacolare che puoi commentare ci stiamo avvicinando all'area che stiamo parlando c'è il Panana Glacia vedete questo ghiacciaio come vi ho detto è largo 30 chilometri questa è una diciamo è una sezione vedete a destra il l'oceano medinale vedete la lingua che galleggia a causa della marea ovviamente le maree ci sono anche in Antartide per cui questa questo ghiaccio poggia sull'oceano è il punto in cui incomincia a galleggiare si chiama ground in line cioè il punto di flessura e questo punto di flessura può essere studiato tramite l'immagine da satellite quelle che vedete sopra in colore sono le immagini da satelliti radar che quelle frange ci dicono quant'è la velocità cioè lo spostamento sia in verticale che orizzontale del ghiacciaio per cui diciamo che noi possiamo utilizzando le immagini da satellite vedere dove è il punto di galleggiamento del ghiacciaio cioè la ground in line quello che vedete lì sotto in rosso quelle frecce in rosso sono dell'acqua calda dell'acqua della circumpola di puota cioè un'acqua oceanica che ha una temperatura di circa tre gradi e mezzo quattro gradi dovete tenere presente che le acqua in Antartide di solito è di 1.2 gradi sotto zero cioè è quasi vicino al punto di fusione di congelamento che è meno due gradi a causa della salinità qui vedete sempre le frange vedete qui la posizione della ground in line nel 1992 nel 96 nel 2000 e vedete che si sta retrando ci rispiega i colori ci rispiega i colori frezzotti sono le frange sono i colori diciamo ci dicono soltanto quant'è la velocità di spostamento per cui diciamo non sono dei colori molto importanti e sono più importanti quelle linee che ci danno la posizione di dove incominciava a galleggiare il ghiacciaio nel 1992 qui nel 2000 nel 2009 nel 2011 come vedete ci sono stati 40 chilometri di tiro con un assottigliamento dello spessore del ghiaccio di 200 metri e per cui capite l'importanza la cosa è un video fantastico è un video fantastico molto esaustivo di tutto che ci fa capire che i vulcani non ci assercono niente sì perché come vedete questa intrusione di acqua calda che viene dall'oceano come dicevo prima gli oceani si stanno riscaldando molto di più cioè la quantità di calore che è necessario per aumentare la stessa diciamo un grammo di acqua per aumentare di un grado l'aria ne serve un quarto di questa energia per cui la quantità quello che noi chiamiamo cambiamento climatico cioè dovuto al fattore antropico è il 93 per cento del calore andato negli oceani è soltanto una piccola parte andata nell'atmosfera un'altra parte è andata nella fusione di ghiaccio un'altra parte nel riscaldamento della superficie terrestre allora facciamo vedere altre cose per far capire ai nostri amici cosa avviene allora abbiamo visto quel bellissimo video che ci ha fatto capire il meccanismo adesso facciamo vedere dall'alto dal satellite come si sposta si frattura questo ghiacciaio puoi spiegarlo? questo è il ghiacciaio si vedono una serie di immagini a satellite e vedete la frattura da cui si stacca quell'alber che tanto per capire quello che vi ho detto prima quel quell'iceberg che si è visto nell'ultima immagine è grosso quanto l'isola di malta questo quant'è che si è staccato? che è stato un fatto sì 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 durante sì perché eh là c'è andato a finire virus corona secondo me che ha fatto un po' di danni allora facciamo vedere un altro video te lo faccio sempre commentare ok perché ci sono parti in inglese e eh non è il caso in questa trasmissione scientifica di parlare inglese allora che ci racconta questo video anche molto interessante? questo ci dice quant'è il ghiaccio che se ne sta andando via dal diciamo eh dalla terra ovviamente il 90% del ghiaccio è intrappolato fra Antartide e Groenlandia la maggior parte è in Antartide a causa della fusione ovviamente dell'aumento della temperatura abbiamo il fatto che il ghiaccio in Groenlandia principalmente fonde in superficie mentre in Antartide fonde a causa dell'interazione con l'oceano certo e per cui sono ci 413 miliardi di tonnellate di eh di ghiaccio che ogni anno diciamo se ne sono andati via eh un gigaton cioè un miliardo di tonnellate di eh di ghiaccio corrispondono a ecco la quantità lo vedete qua quello è l'Empire State Building e vedete quanto è il tanto per capirci la portata del Pine Island Glacier è di circa 1700 eh 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 gigatonnellate e noi ogni anno in eh in Italia utilizziamo 10 gigatonnellate di acqua come utilizzo di acqua potabile per cui diciamo quello che viene portato a mare ogni anno dal Pine Island Glacier serve per diciamo come acqua dolce per centosettant'anni in Italia tanto per darvi dei dei numeri che siano capibili eccezionale mamma mia mamma mia sei stato molto 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 chiaro eh qui che ci dice alla fine quello che dice che in in circa un metro di innalzamento livello del mare eh eh ci stanno eh trecento milioni di persone su tutte le spiagge quello che dicevo prima cioè il problema è quello non solo il problema diciamo dell'innalzamento livello del mare ma quando ci abbiamo l'innalzamento livello del mare ma come l'acqua alta anche a Venezia cioè noi abbiamo che a Venezia ovviamente Venezia sta sprofondando più abbiamo l'innalzamento livello del mare e in più abbiamo dei fenomeni che sono quello dell'acqua alta cioè le tempeste che sono aumentate nettamente di più e ovviamente per cui influenza in maniera molto più forte tutte le aree costiere allora grazie alla NASA per questo video allora facciamo vedere altri due video eccezionali tre video in realtà eccezionali il primo lo commenti tu il secondo lo facciamo unire Florinto e Pompito va bene questo eccezionale ci fa capire temperatura e cosa succede da quelle parti in una maniera eccezionale ecco qui vedete il il quanta massa viene persa dall'Antartide vedete che diventa rosso vuol dire che quella sta perdendo massa ok mentre sul lato destro vedete che aumenta il blu quello significa invece che sta aumentando invece la massa uno al rosso perde l'altro aumenta e lì in tutte e due le aree ovviamente ci sono vulcani allora se ci fossero vulcani fossero dovuti alla alla fusione ovviamente non dovremmo vedere queste due cose invece la parte sinistra che diventa rossa è quella all'interfaccia con l'oceano con l'acqua calda quella destra invece è quella con l'acqua fredda e che per cui non ha ovviamente questa perdita allora frezzotti frezzotti lì si nota una cosa a sinistra e rosso si perde a destra si accumula ci spieghi bene questo meccanismo me lo me lo dici proprio terra terra il sistema è quello che quello a sinistra sta catturando diciamo eh lo faccio rivedere ecco rivediamo vedete che diventa rosso e per cui sta perdendo massa sta perdendo perché la velocità dei ghiacciai è aumentata del 70% aumentando la velocità dei ghiacciai del 70% e per cui portando molto più acqua di quanto eccetera sta catturando l'acqua di drenaggio di quell'altro che permettevano un deflusso e per cui ha bloccato la velocità a destra per cui da quella parte non defluisce più il ghiaccio e defluisce tutto principalmente sulla parte sinistra e questa è una grossa quantità cioè è molto significativa e in base agli studi geologici che sono stati fatti è messo in evidenza che questo processo è iniziato intorno agli anni 40 è accelerato in maniera significativa a partire dagli anni 93. Allora domanda per Pompilio domandona Pompilio dalla parte dove si accumula invece ghiaccio ci sono i vulcani ci sono comunque vulcani tutta quell'area lì è chiaro che su questo però i vulcani i vulcani hanno una dinamica però a lungo termine quindi ci sono sempre a meno che non c'è un'eruzione no no ti chiedo perché la butto perché la butto sul cavolo perché perché dovrebbero influenzare la fusione a sinistra e non dovrebbero influenzare la fusione a destra ci sono a tutte e due le parti mi sembra di capire no? O sto sbagliando? No è così è così sono da tutte e due le parti poi alcuni ci vedono questa storia amen l'abbiamo visto praticamente ma noi abbiamo non solo ma noi abbiamo evidenze tramite le carote di ghiaccio e anche i rilievi radar che non ci dove ci sono questi apparati vulcanici al di sotto della carotta di ghiaccio la velocità del ghiaccio non è maggiore per cui è proprio un lavoro che è appena uscito del del gruppo universale del texas e in cui mette in evidenza proprio che ci sono questi apparati vulcanici ma non c'è acqua diffusione alla base per cui non si capisce perché dovrebbe essere questo il fattore che porta alla riduzione e l'altra cosa è quella che si è individuato una eruzione vulcanica di 2.200 anni fa che però non ha influenzato o se l'ha influenzato in maniera assolutamente marginale la diciamo il bilancio di massa cioè quanto ghiaccio arriva e quanto se ne va via e l'antare. Ok chiarissimo allora facciamo vedere due cosine con Florinto che sta qui. Allora Florinto sei pronto? Prontissimo. Vai. Interessante questo questo fa vedere il contenuto di 12 in atmosfera in parti per milioni vedete sulla sulla destra da 330 a 420 lungo la verticale lungo le ordinate e questo questo grafico che sembra che fa una danza fa vedere negli anni vedete c'è un orologio adesso 1991-92 sono diversi punti e sono diversi osservatori nel mondo come stanno registrando la CO2 in atmosfera vedete che lentamente al di là delle oscillazioni progressivamente il contenuto di CO2 in parti per milioni sta aumentando eravamo partiti nel 1979 vedete in basso con 336 parti per milioni e sta salendo questa oscillazione che va su e giù è essenzialmente legata ai processi di fotosintesi clorofiliana quindi è la respirazione del pianeta che fa male questa cosa c'è questo che è il pianeta che respira e mi fa morire a me è soprattutto evidente nell'emisfero nell'emisfero nord vedete rispetto all'emisfero sud adesso quello che è interessante è vedere che cosa succede adesso adesso stiamo continuando a salire quindi siamo arrivati al 2018 adesso questo grafico cambia scala questo è quello che abbiamo visto dal 1979 che significa cambia scala adesso e vengono aggiunti dei dati di osservatorio quello prima il manual oa e adesso questi puntini arancioni che si stanno aggiungendo sono delle delle dei valori ottenuti dalle carote di ghiaccio e lo dom la score e adesso si sta aggiungendo questo in celestino che viene dalla carota di vostro quindi sempre come ha detto frezzotti studiando il gas contenuto nel bollicine all'interno delle carote di ghiaccio è possibile ricostruire il contenuto di cio due in atmosfera vedete dalla carota di vostro il trend sale scende sale scende a un certo punto adesso cambia colore questa è un'altra carota di ghiaccio e la carota di epica però vedete che i valori sono sempre contenuti entro un range no massimo 300 parti per milioni vedete a destra se non so se riusciamo a tornare dietro di pochissimo no ti dovrei fare indietro diventerebbe no no però sulla destra si vedeva che siamo andati proprio fuori scala ma il problema più grande è anche la velocità quindi non solo stiamo immettendo tantissima c2 come non abbiamo visto negli ultimi 800 mila anni ma è l'accelerazione che c'è stata che è veramente impressionante cosa che non si è vista che negli in che periodo se si è aumentata di più aumentata questa accelerazione bene dalla rivoluzione industriale in poi diciamo con precisione dalla seconda rivoluzione industriale in poi quando è aumentato il lavoro delle fabbriche che lavoravano il ferro l'uso del petrolio carbone 40 40 che cos'è tra tra diciamo a partire più o meno tra il 1870 ah ok mi sono perso proprio ok va bene sì sì no però no c'è ragione però comunque diciamo il l'aumento vertiginoso è a partire al mille mille novecentocinquanta alla fine la seconda guerra mondiale avevo visto quello per così quello che avete visto giusto c'è quello che diceva florindo 1870 quando incominciamo a cambiare dai 279 parti per milione arriviamo poi a velocemente a alcune parti per milioni in più ma a partire dagli anni 50 c'è l'esplosione industriale posti verde la seconda e adesso stiamo aumentando apposta come dicevo di due parti e mezzo milione e bisogna tenere presente che l'aumento di co2 in atmosfera in parte è compensato dagli oceani cioè un terzo della co2 che noi mettiamo in atmosfera viene catturata dagli oceani il pro e che ovviamente la solubilità della co2 nell'acqua oceanica è dipendente dalla temperatura più è fredda più assorbe più è calda meno può assorbire per cui l'aumento della temperatura è un altro di quei processi di feedback che può portare a un certo punto che l'oceano non assorbe più la co2 che noi mettiamo in atmosfera ma in più potrebbe anche incominciare a riemetterla e l'oceano meridionale cioè quello che si trova intorno all'antartida è il più grande serbatoio di co2 nell'oceano ok ok quindi meditiamo gente cerchiamo di capire bene che cosa dicono questi signori allora c'è una domanda poi spesso sentiamo anche parlare dell'acidificazione degli oceani no è sempre legata a queste problematiche di queste cioè due che mettiamo che va a finire negli oceani e poi c'è anche questa moria di coralli no nel nord dell'australia ad esempio che che è un disastro adesso non possiamo parlarne però ecco è sempre legato a tutto lo stesso sistema faremo un'altra puntata allora c'è una domanda di un amico vanni donatelli dalla fisica quanto un cubetto di ghiaccio in un bicchiere d'acqua si scioglie non genera un aumento del livello dell'acqua nel bicchiere mi viene da pensare che scioglimento di ghiacci di banchisa e iceberg non generi un aumento del livello marino mi sbaglio ragione il problema è che però diciamo la fusione della banchisa cioè del ghiaccio marino e degli iceberg diciamo di per sé è una questione naturale il problema quando questo processo diventa anomalo cioè si staccano molti più iceberg per cui vuol dire che molto più ghiaccio arriva al mare dalle calotte di ghiaccio oppure si riduce notevolmente il ghiaccio marino e questo significa che si è ridotto il ghiaccio marino perché l'acqua è la temperatura dell'acqua è aumentata riducendosi aumenta ancora di più l'acqua la temperatura dell'acqua dell'oceano in un processo di feedback che porta sempre di meno alla riduzione dell'albedo e ovviamente aumenta la temperatura delle zone polari allora questo video questo video ah ecco questo qui è interessante questo si aggancia al progetto di perforazione che abbiamo fatto vedere prima è una parte di modellistica che utilizza i dati da noi diciamo elaborati e fa vedere che sono circa nella scala orizzontale circa 17 mila anni si perde completamente la galotta ovest dell'antarpide quello è un modello complesso tridimensionale dove tiene in considerazione sia il bedrock quindi proprio la morfologia del fondale sotto sotto il ghiaccio ma anche la dinamica del ghiaccio sia la parte galleggiante che la parte che poggia su roccia la rivediamo è molto veloce e ci spiega i colori molto rapidamente i colori come prima sono sono le diverse altezze della galotta e a sinistra fa vedere ecco il collasso repentino e quindi prende abbiamo un oceano mare aperto lì tranne queste isole che sono rimaste no perché lì è vulnerabile anche per questo a differenza dell'antartida orientale dove sotto c'è un continente come il canada in questo settore è una sorta che diciamo un arcipelago di isole tra loro unite da questa galotta che poggia sopra e più facilmente l'oceano da sotto tocca diciamo il ghiaccio dalla base e comincia ad assottigliarlo volevo dire anche una cosa in risposta ragazzo vanni vanni mi sembra si chiama donate che è giusto quello che lui dice ma la cosa importante è che quando si perdono queste calotte queste queste piattaforme di ghiaccio galleggiante loro non influiscono sulle variazioni del livello però c'è una cosa da tenere in considerazione loro sono una specie di collo di bottiglia che fermano il drenaggio della galotta alle spalle quando queste cominciano a rompersi e accelerare cominciano a drenare velocemente tutto quello che c'è alle spalle come abbiamo visto prima ha fatto vedere frezzotti e quindi è proprio è come se si stappa la bottiglia di spumante e comincia a drenare la galotta verso mare quindi sono loro sono un po' un tappo ma quando cominciano a partire è un problema allora a pompilio richiaria richiariamo la storia dei vulcani ci sono sempre stati sono sempre stati lì ok però nelle carote non si nota un'incidenza giusto della loro presenza nello scioglimento o meno di questa polo sud mi sbaglio no 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 allora nelle carote si ritrovano ovviamente se c'è stata un'eruzione c'è stata si ritrovano si trovano i prodotti vulcani su questo non ci piove e però chiaramente se si va a vedere da tanto con le carote quando è venuta l'eruzione si vede che quando c'è stata un'eruzione questa non ha influito e l'eruzione è un evento istantaneo nella storia anche se durasse dieci anni su centomila anni è un secondo insomma è pochissimo e quindi è chiaro che questa cosa non ha influito noi stiamo guardando dei fenomeni che sono veloci alla scala di dieci anni cent'anni è questo voglio dire che sono un vulcano non è che aumenta l'attività in cento anni o diventa più caldo l'unica l'unico evento istantaneo di un vulcano è un'eruzione basta ok allora risentitizziamo frezzotti in questa immagine così chiudiamo la puntata facendo vedere quello che abbiamo visto nel primo video fantastico dell'ESA in una sola immagine e chiudiamo la storia vai qui si vede piuttosto bene questo diciamo è l'esperimento in cui quello che vedete il puntino rosso è un sottomarino telecomandato un drone telecomandato che sott'acqua che ha misurato la temperatura dell'acqua lì al di sotto della piattaforma e vedete 1 2 3 vedete che ha misurato anche l'arretramento della ground in line e come vi diceva prima florindo è il fatto che vedete il continente va a degradare verso destra cioè sotto alla panana glacier il continente è ben al di sotto del mare per cui ovviamente l'acqua entrando lì dentro ovviamente arretra la ground in line ma ovviamente ha una capacità sempre di più di assottigliare e velocizzare il ghiaccio che defluisce verso il mare e vedete questa circumpola deep water che era quell'acqua che vi dicevo che ha una temperatura di 3 4 gradi al di sopra dello zero mentre normalmente l'acqua dell'oceano al contatto con la calotta è di meno 1.2 meno 1.9 quando la congelamento dell'acqua oceanica in antartida è intorno ai 2 gradi sotto zero ok allora signori ci siamo un miracolo perché scienza show di solito arriva a due ore e mezza però questa volta mi sono sforzato di farlo durare un'oretta e qualcosa allora abbiamo chiarito tutto se avete dubbi ci scrivete se volete parlare con gli scienziati che ne so anche in privato vi organizzo una chat chiusa solo per voi scienza show è qui per questo allora prima puntata di scienza show talk è fantastica è stata fantastica io vi devo ringraziare perché è stata una puntata a livello di divulgazione scientifica numero 1 in 100 puntate non c'è stata una di questo livello quindi vi devo ringraziare allora a massimo frezzotti glaciologo roma 3 grazie massimo grazie a voi dell'attenzione grazie a roma 3 fabio florindo istituto nazionale geofisica e vulcanologia geologo grazie a grazie a l'istituto nazionale geofisica e vulcanologia che lo ringrazio anche per la presenza di massimo pompilio vulcanologo grazie a voi allora è andata bene anche stasera io vedo un commento al volo interessantissimo è affascinante grazie a tutti quanti è tornato a scienza show ci vediamo tutti giovedì alle 21 e 20 nel frattempo tutti i giorni 14 e 30 sempre dal vivo scienza show news viene sempre un ricercatore commentiamo una notizia di scienza prossima settimana finiremo addirittura in una nave oceanografica e poi finiremo in tanti altri posti io voglio finire dentro il cerna e ricordatevi segnate di questa cosa perché ci arrivo prima prima o poi con una diretta dal cenno grazie fernando l'insalata buonissima grazie mi fa bene e che dire che dire chi allora questa scienza show chi non segue scienza show chi non segue scena show è un complottista bravi grazie grazie a tutti